Ciao, bentornati. Javier Bardem sarà barba nera in Peter Pan e vi dico tutto dopo il video. Parlate ora o tacete per sempre. Pronto. Pronto. Salute. Mi dispiace che ti vado a aspettare. Lo trovavo. C'è un po' che ci fa il catturio. Sì. C'è un po' che ci fa il catturio. Pronto? È ora di conoscerci, ti pare? È ora di un po' che ci fa il catturio. Non è di una cosa che ci fa il catturio. Javier Bardem potrebbe tornare ad indossare i panni del Villain in Pan, ennesimo film dedicato all'immortale figura di Peter Pan. Bardem interpreterà barba nera, pirata maligno pronto ad assaltare l'isola che non c'è. Basato sulla sceneggiatura di Jason Fuchs, Pan si concentra sulle origini del personaggio di Peter Pan, dipingendolo come un ragazzo orfano che viene trasportato sull'isola che non c'è, dove guida la battaglia fra indigeni e pirati. Questa volta però il nostro eroe sarebbe dotato di superpoteri. Uno script davvero originale in mano a la Warner, quindi siamo molto curiosi. Dietro alla macchina da presa ci sarà Joe Wright. Pan non ha ancora nessuna data di uscita nelle sale e quindi vi terremo aggiornati. Per oggi è tutto, potete anche seguirci su Twitter at FilmisNow. Ciao, alla prossima!